Si chiama semplicemente l'Aquila la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2016-2017 dell'Aquila Rugby Club. In attesa dell'avvio del campionato nazionale di Serie A, quando Alfattori e i Neroverdi ospiteranno all'esordio l'Unione Rugby Capitolina, il club lancia così la campagna per la stagione alle porte. Tra le novità l'abbonamento per 10 partite disponibile per il settore tribuna e come nella scorsa stagione la card abbonamenti darà diritto ad una scontistica in diversi esercizi commerciali della città. Per quanto riguarda il settore distinti, la società ha deciso che l'accesso per le partite di campionato sarà gratuito, sostenuto comunque da aziende e cittadine che permetteranno la fruizione gratuita delle gare a tutti gli aquilani. Soprattutto dopo il 6 aprile del 2009 che i distinti erano stati sponsorizzati, quest'anno l'abbiamo ripresa perché riteniamo giusto anche noi aver presente che la situazione economica diciamo un po' generale sta diventando pesante per cui diamo la possibilità a chi non dispone di grosse risorse comunque di poter partecipare alle partite. Tenendo presente ecco che le sole due partite dove pagheranno tutti sono le giornate nero-verdi che sono quelle di sostegno alla società ma saranno due partite nell'arco di tutto il campionato.